Buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Rieti Life. Tutta l'informazione di Rieti Provincia su rietilife.com, Facebook e Instagram. E' stato pubblicato l'indice di criminalità del sole 24 ore Rieti e 69esima con 4.144 denunce per 100.000 abitanti nel 2021. Resta così nella manità bassa dell'indice, una città sicura anche se il reatino è quinto per omicidi da incidenti sul lavoro e nono per gli incendi. In diciottesima posizione per truffe web. L'aumento del 5,9% di denunce dall'ultima rilevazione del quotidiano economico mettono Rieti tra le città con un aumento maggiore di reati. Un video virale sta facendo in queste ore il giro del web, soprattutto a Rieti. E ritrae un giovane, presumibilmente reatino, intento a decapitare un piccione sulla ringhiera di Ponte San Francesco. L'animale viene estratto da uno zaino e tra le risatine dei presenti in pieno giorno viene ucciso barbaramente. Le immagini stanno generando sdegno. Non è chiaro quando il video sia stato girato. È una giornata soleggiata e i giovani, forse studenti, si trovano in zona Ponte Romano-Ponte San Francesco. Una bella sorpresa per i fedeli reatini. Domenico Pompili è il nuovo amministratore apostolico di Rieti. A nominarlo è stata la CEI. Pompili, che ha preso l'incarico a Verona lo scorso primo ottobre, rimane ancora saldamente ancorato alla sua Rieti, terra che ha amato e che ha accompagnato per sette anni dal 2015. Così, dopo il commosso a rivederci, ora la sorpresa sarà lui a traghettare i reatini verso il nuovo vescovo che prenderà il suo posto. Non è chiaro ancora quando ci sarà il cambio definitivo. La foto di Rieti è scattata dalla Stazione Spaziale Internazionale. Un regalo di Samantha Cristoforetti a Rieti. Il capitano dell'IS, prima donna europea a ricoprire questo ruolo, ha pubblicato una foto su Twitter, allegandola a un tour del Lazio fotografico e tra le stelle. Grande l'ecosocial della notizia. Ha raggiunto quota 900 il totale dei contagi Covid nel reatino. L'arrivo di ottobre porta a un aumento delle positività tra capoluogo e provincia. Nell'ultimo bollettino, che risente del fine settimana, 43 nuovi casi e 23 guariti. Cambia anche l'orario del drive-in di Via del Terminillo per i tamponi. Si può accedere dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 10.30. Ottobre è il mese della prevenzione contro il tumore al seno. È per questo che Asle, insieme a Lilt, Rieti e Alcli, mettono in campo la campagna dell'ottobre rosa. Gli eventi, iniziati già sabato 1 ottobre con il Memorial Valentina Liguori e il 2 ottobre con la Camminata per la Vita, organizzata da Alcli Donna, andranno avanti tutto il mese. L'Asle di Rieti offre per il mese di ottobre alle donne in fascia 45-49 anni la possibilità di eseguire gratuitamente la mammografia nelle strutture sanitarie aziendali. Entro ottobre, inoltre, sarà possibile prenotare la mammografia chiamando il numero unico dedicato 06 16 41 61 840 attivo dal 1 ottobre al 30 ottobre 2022. Lo sport, partiamo dall'atletica perché la studentesca è campione d'Italia Under 23 con la squadra maschile, donne seconde. Weekend di festa a Modena, un successo conquistato grazie alle prestazioni di Junior e Promesse Rosso Blu. Da sottolineare il nuovo record nel disco di Benedetta Benedetti che aggiusta il suo primato italiano Junior di un metro siglando un 55 e 83. Il calcio, ennesima vittoria prestagionale per la nuova Rieti Calcio 6 a 0 alla Torpedo. Attuata al Green Park e la Foresta davanti a un folto pubblico nonostante le assenze, successo senza dubbi doppietta di Patacchiola e reti di Massimi, Alessandrini, Filippi, Ramazzotti. Mi è piaciuto l'atteggiamento e il commento del tecnico Stefano Lotto ora testa alla prossima sfida. Mercoledì alle 20 arriva il Città Ducale. Di nuova Rieti Calcio e altro si parla stasera a pillole di Sport Life con Osvero Antonetti dalle 21 su rietilife.com, Facebook e Instagram. Il basket vincono entrambe le reatine della pallacanestro. La NPC dopo un match equilibrato bagna con un 66-57 alla Juve Cremona e ritorna in A2. Grande protagonista di giornata, l'americano Gisto insieme a Tucker. In Serie B la Sebastiani vince largamente a Fiorenzuola grazie a Chinellato. Finale 90-70 per gli uomini di Dell'Agnello. Domenica la seconda giornata. Era questa l'ultima notizia del telegiornale di Rieti Life che torna domani sempre alle 20.45 su rietilife.com, Facebook e Instagram. Buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.